Eccoci qua amici del Salento, ben ritrovati su Telerama. Andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di sabato. Ancora scirocco, tra l'altro non solo sabato, anche domenica. Vento da scirocco, quindi clima piuttosto incerto, a tratti instabile, a tratti nuvole, umido naturalmente. Le temperature sono aumentate, soprattutto le minime. Vedete? A tratti nuvole che arriveranno dal Mar Ionio, quindi da sud-ovest verso nord-est, e potranno apportare dei rovesci di pioggia, localmente anche di moderata intensità. Però, come potete sembrare, sarà variabile il tempo e quindi non mancheranno anche delle aperture del cielo. E non pioverà, tra l'altro, in maniera uniforme, dappertutto. In alcune zone non si vedrà per niente la pioggia o comunque avremo fenomeni poco significativi. Quindi questo è lo scenario previsto per la giornata di sabato. Verso la sera, tarda sera, però, qualche fenomeno un po' più convinto, meglio, maggiormente distribuito sul territorio. Vediamo il vento, ne abbiamo già parlato ampiamente, comunque guardiamo la grafica. Vedete? Venti da sud, anche sostenuti, vivaci, con mari, mossi, molto mossi, soprattutto le zone esposte allo scirocco, al vento da sud. Temperature senza grandi variazioni. Visto che avremo, abbiamo e avremo un periodo in compagnia dello scirocco, concludo quest'oggi con uno proverbio. Questa volta in dialetto salentino, se luscirocco rite, fessa cilucrite. Arrivederci!